Giovanni Paola, presidente dell'ASD Garibaldina, il primo agosto allo stadio Antonio Leo si disputerà il Memorial Angelo Colossimo e Sandro Spina. Siamo stati contentissimi di poter fare parte dell'organizzazione di questo Memorial per due figure importantissime che hanno avuto un ruolo fondamentale all'interno della Garibaldina e quindi siamo contenti di poter fare tale attività che danno un aiuto alla società perché non è solo calcio ma anche ricordare delle figure importanti che hanno dato un grosso contributo alla squadra. Queste manifestazioni possono contribuire alle attività sportive della Garibaldina? Esattamente sì perché noi abbiamo anche un ruolo sociale ma anche un ruolo di memoria di quelle che sono state delle figure importanti e dato che il calcio aggrega noi siamo orgogliosi e contenti di poter far parte di questo Memorial. Cosa vi aspettate per la prossima stagione calcistica? Sicuramente siamo partiti un po' prima rispetto all'anno scorso quindi cercheremo di fare una stagione molto più tranquilla e che comunque ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni ripartendo dalla salvezza conquistata all'ultimo momento nella passata stagione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!